La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Il Premier Mario Draghi ha appena firmato da qualche giorno una direttiva per desecretare i documenti su Gladio, l'organizzazione paramilitare clandestina appartenente alla rete internazionale Stay Behind, promossa dalla CIA in funzione antisovietica ai tempi della guerra fredda. E anche sulla loggia massonica eversiva P2, questa decisione di Draghi è arrivata proprio nell'anniversario della strage di Bologna, come a voler lanciare un segnale sul fatto che con ogni probabilità proprio queste due organizzazioni sono state responsabili della destabilizzazione del nostro Paese e quindi delle stragi. Una tesi ritenuta estrema, ma assolutamente condivisa e documentata nei libri di Ferdinando Imposimato, Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, giudice e istruttore del caso Moro, quindi chi meglio di lui può essere autorevole su questo argomento. Anzi, addirittura Imposimato parlava della Gladio dietro le stragi di Stato, affermando tra l'altro che gli esplosivi usati erano proprio gli stessi in dotazione alla Gladio. Bene, quando Imposimato affermava queste cose gli davano del complottista, come al solito provavano a smentire le sue tesi, a dire che si era fatto vecchio, non era più lucido. Ora invece vedremo cosa emergerà da questi documenti, perché il primo ad avere giustizia potrebbe essere proprio il compianto Imposimato. Io, dal canto mio, con una tempistica quasi perfettamente in linea con la scelta di Draghi, ho trattato proprio quest'argomento nella mia ultima inchiesta, il Diego Rivoluzionario, mettendo ordine su tutti i dati ufficiali che sono emersi finora, sui collegamenti tra Gladio e gli apparati americani e la CIA, che con ogni probabilità hanno agito dietro le quinte nella destabilizzazione del nostro Paese in quegli anni. Attendiamo di vedere che documenti faranno emergere. Resta il sospetto che sarà un'operazione incompleta, dato che Draghi, come sappiamo, è un fervente atlantista, quindi con ogni probabilità si limiteranno a far emergere le responsabilità del fronte italiano, quindi quello degli esecutori materiali, ma non le responsabilità dei veri mandanti internazionali di quelle operazioni. Probabilmente emergeranno i collegamenti tra gli esecutori italiani e la P2, ma glisseranno completamente sulle azioni made in USA, altrimenti, credetemi, si scoperchierebbe davvero il vaso di Pandora, anche perché i loro discepoli hanno ancora bisogno di muovere le file del governo italiano, hanno ancora tutti i canali aperti, quindi non possiamo che attendere ai posteri l'ardua sentenza. Vi ricordo anche che la mia pagina Facebook ed il mio profilo sono stati completamente bloccati, quindi potete seguirmi in diretta sulla pagina Instagram Francesco Amodeo Official. Un caro saluto a tutti. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.